Da qualche settimana è attivo presso l'Asl di Pescara, lo sportello di consulenza economico finanziario legale aperto dal CERD, il Servizio Sanitario Contro le Dipendenze, per fornire un sossegno gratuito ai giocatori d'azzardo e dei loro familiari che intendono proteggere i loro risparmi. Il fenomeno della dipendenza dal gioco d'azzardo è particolarmente diffuso in tutta la regione. Gli abruzzesi sono avvezzi a spendere una quantità enorme di denaro. Abbiamo che per il gioco fisico, per i canali fisici, all'interno delle sale da gioco, in Abruzzo si spendono circa 1,23 miliardi di euro mentre il canale telematico se ne spendono 1,93 miliardi di euro. Come il trend nazionale, anche in Abruzzo il canale telematico come raccolta ha superato il canale fisico. Tra le province dove il fenomeno delle scommesse d'azzardo è maggiormente presente, si registra Teramo seguita da Pescara. Nel 2021 i pescaresi hanno speso nel gioco, su rete fisica, 962 euro pro capite contro i 1.099 di Teramo. Su rete telematica invece gli importi salgono a 1.644 euro pro capite dei pescaresi contro i 1.749 dei Teramani. Il gioco preferito, soprattutto dalle donne, è il gratta e vinci, seguito dal superenalotto, dall'otto e dalle scommesse sportive, praticate prevalentemente da uomini e più giovani. Per rispondere a questo fenomeno l'ASL ha un'equip dedicata che si occupa di giocatori d'azzardo. Abbiamo una sede proprio a Pescara, nella sede del CERD. Poi da più di un anno abbiamo aperto a Scafa uno sportello di ascolto per i giocatori GAP, dove fondamentalmente svolgiamo le stesse prestazioni che svolgiamo al servizio CERD. La novità è quella che dalla fine del 2023 abbiamo aperto anche uno sportello di consulenza economico-finanziaria e legale. Lo sportello, che si trova nella sede del CERD di via Monte Faito a Pescara, è aperto il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30. L'accesso allo sportello è possibile dietro appuntamento telefonico. Dottore, per concludere, si può guarire, si può uscire da questa patologia? Allora, tutte le dipendenze tendono ad avere un andamento cronico, però non sono malattie croniche, quindi teoricamente si può guarire.